Poi vado a vedere, noi giochiamo ogni tre giorni, poi magari vado a vedere una partita che viene giocata dopo cinque giorni di riposo. Dico, boh, come? Giocano prima di noi e poi giocano dopo. Noi giochiamo a Roma a partite importanti e qualche domanda me la faccio. Il problema è che me la faccio solo io, forse, all'Inter.